La zona umida della città salina rannovera circa 100 specie di uccelli diverse fra stanziali e svernanti, e annualmente raggiunge una popolazione di circa 40.000 esemplari. La zona umida della città salina rannovera circa 100 specie di uccelli diverse fra stanziali e svernanti, e annualmente raggiunge una popolazione di circa 40.000 esemplari. La vi fauna comprende in massima parte eroni, avocette, cavalieri d'Italia, svassi, spatole, Cormorani e l'affascinante fenicotero rosa, specie stanziale, divenuto il simbolo stesso della città, si estende su una superficie totale di circa 4.500 ettari parallelamente alla costa adriatica, su una fascia lunga 20 chilometri e larga 4. La profondità delle vasche varia tra i 2 e i 3 metri. Le saline di Margherita di Savoia sono inserite nel sito di importanza comunitaria zone umide della Capitanata, codice IT 9.110.0005, ai sensi della direttiva Habitat 9243-CE. All'interno del PSIC sono stati individuati gli habitat prioritari relativi alle lagune e le steppe salate, caratterizzati da flore e faune idonee a vivere in presenza di elevate concentrazioni saline. Essa è costituita da una vasta distesa di acque calme di profondità variabile suddivise, tramite reginelli artificiali, in vasche adibite alla produzione del sale marino e la salina più grande d'Italia e una delle più vaste dell'intero bacino mediterraneo. Sul luogo dell'odierna salina si trovava originariamente una vasta laguna costiera, il lago Salpi, a seguito probabilmente di periodici allagamenti di acqua marina nei terreni retrodunali l'evaporazione formava estese incrostazioni di sale. Fu questo che con ogni probabilità suscitò l'interesse dell'uomo per questo luogo nel corso dei secoli, l'area vive in sediamenti già nel periodo neolitico e in seguito, con la fondazione della città di Salpi, vi si succedettero i greci e i romani, questi ultimi utilizzarono Salpi, nel frattempo rinominata Salapia, con la vicina si ponto anche da punto d'imbarco per i cereali prodotti nel tavoliere della floridezza della città rimangono oggi soltanto rovine sommerse ed un molo costruito con lastroni di pietra del lui i secolo c. i romani utilizzarono, intensamente i depositi salini e questa attività continuò a svilupparsi in tutte le epoche successive nel corso delle quali l'intero setto territoriale della zona progressivamente si modificò in funzione delle nuove tecniche di estrazione del sale, i deflussi delle acque basati sulla pendenza naturale dei terreni furono sostituiti da vasche in seguito da sistemi di idrovore. Nelle saline operarono già dal Medievo, nel Rinascimento e nelle epoche successive progettisti famosi ed illustri, sono ancora osservabili delle strutture fatte costruire da Ferdinando e di Borbone nella prima metà dell'Ottocento che rappresentano importanti testimonianze di archeologia industriale. La raccolta manuale del sale è stata progressivamente sostituita da sistemi meccanizzati unitamente alle funzioni produttive. Le acque della salina hanno attirato sin dall'antichità l'attenzione dell'uomo per le loro proprietà terapeutiche. Oggi con le famose acque madri o acque rosse delle saline si praticano cure nello stabilimento termale di Margherita di Savoia e salicornieto che forma una vera e propria prateria. Rappresenta a sua volta un habitat prioritario ed è costituito, come suggerisce il nome, dalla presenza della salicornia. Questa pianta rappresenta un'importante difesa per i suoli grazie alla sua capacità di trattenimento dei fanghi e i persalini che quindi non si disperdono nei terreni circostanti. La caratteristica colorazione rossa delle acque dei bacini salanti, acque madri, è dovuta alla presenza di alghe contenenti elevate concentrazioni di betacarotene, come la dunagliella salina e di numerosi microrganismi capaci di tollerare la salinità. Le saline di Margherita di Savoia rappresentano l'abitat idonea a ospitare una grande varietà di organismi viventi, microrganismi alofili, molluschi, insetti e crostacei adattati alle diverse condizioni di salinità delle acque, la specie più caratteristica di questi ambienti l'artemia salina, crostacea o delle dimensioni di qualche millimetro ben adattato a vivere in acqua e elevata salinità. L'artemia salina è l'unica specie in grado di tollerare acque con un tasso di salinità superiore ai 300 grammi litro, perché ha sviluppato la capacità di assorbire acqua salata ed eliminare i sali in essa contenuti. I microrganismi che vivono attaccati al fondo delle vasche, contribuendo a creare uno strato isolante, favoriscono la produzione di sale e arricchiscono di sostanze organiche le acque, tra questi microrganismi l'allobacterium salinarum, tipico degli abitati per salini che richiede concentrazioni saline almeno del 20 a 25% e alcuni ciano batteri capaci di sopravvivere in condizioni estreme di aridità e salinità. La variabilità nella concentrazione dei sali, tra le diverse vasche, determina la formazione di innumerevoli nicchie ecologiche ciascuna delle quali è occupata selettivamente e periodicamente da una moltitudine di specie di uccelli. Molte tra le specie ospitate in questi specchi d'acqua sono tutelate dalla Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat, 79409-CE e 9243-CE, e altre sono inserite nella lista rossa nazionale. La zona costituisce infatti un ambiente umido particolarmente adatto alla sosta e al rifugio di numerosi uccelli migratori che trovano nutrimento nelle acque della laguna, alimentandosi di molluschi, larve, vermi e insetti. Le vasche delle saline ospitano numerosi uccelli svernanti appartenenti a quasi tutti i gruppi di specie presenti nel bacino del Mediterraneo tra cui la volpoca, le fischione, il piovanello, il gabbiano roseo e la vocetta. La presenza del fenicottero rosa come nidificante è un'acquisizione recente, 1996, che ha ulteriormente rafforzato il valore del sito. La colonia è la sola presente nel Mediterraneo centro-orientale e ha quindi un elevato valore biogeografico.